Si tratta di un'iniziativa. La prima iniziativa culturale della città metropolitana che però affonda le sue radici da un progetto del 2013, quindi la provincia che si trasfonde nella città metropolitana. Illuminiamo i monumenti dentro e fuori. Vuole essere un'iniziativa che credo continuerà nel tempo per valorizzare i nostri monumenti, il nostro patrimonio, sia quello monumentale, sia quello dei quadri, degli arredi e di tutto quello che la città metropolitana possiede. È una forma questa di interlocuzione ampia che si allarga per tutta l'ex provincia, per tutta la città metropolitana. Credo che di anno in anno realizzeremo questo progetto per le altre bellissime caratteristiche della città metropolitana. Tengo anche a dire che la città metropolitana ha ben quattro siti UNESCO e altri due potrebbero diventarlo. Quindi una zona ad altissimo livello culturale che non chiede altro che di essere messa a sistema e di essere goduta da tutti.